35esima edizione del Vivi Città, Assessore Diodati, domenica Pescara vivrà un'altra giornata di grande sport, solidarietà e città soprattutto a misura d'uomo in questo caso. Questo è un evento sportivo ma è un evento che si inquadra anche in un contesto sociale e in un contesto di miglioramento della qualità della vita della città. Per cui noi ringraziamo la WISP perché sono oramai 35 anni che questa manifestazione si tiene a Pescara, abbiamo riscontri che tante persone vengono a disputare questo circuito su Pescara perché il circuito è un circuito che obiettivamente è un circuito molto bello e di grande qualità. È l'espressione proprio popolare del podismo, del voler correre ma soprattutto del voler stare insieme, di voler essere solidali, di voler lanciare un messaggio per l'ambiente e anche di voler fare una grossa operazione solidale. A proposito di solidarietà ci saranno tante iniziative che metterete anche in campo in questa edizione. Ricordo brevemente che il Vivi Città è un evento globale in quanto si disputa allo stesso momento in oltre 60 città italiane e in 25 penitenziari e luoghi di detenzione. Quindi è un momento veramente storico per il podismo, per lo sport e per il sociale. Per quanto riguarda l'Abruzzo noi abbiamo ovviamente abbracciato il progetto della WISP nazionale che raccoglie fondi per Terre des Hommes che è un'associazione internazionale che aiuta e gestisce i bambini che escono dalla Siria. Ma per quanto riguarda il nostro territorio abbiamo appoggiato tra le altre associazioni come la Lilt, Pescara ed altre, in particolare il nostro partner solidale e ISAV. ISAV sta per io, sono ancora vivo, è un'associazione a sostegno dei malati di SLA. L'abbiamo fatto io e la mia famiglia perché abbiamo avuto il problema a casa, ci siamo resi conto che l'assistenza è fondamentale per questo tipo di persone. Per noi è una grande occasione di sensibilizzare le persone su questa malattia che sembra non essere così conosciuta, invece è una malattia che colpisce 7-8 persone ogni 100.000 abitanti. Ricordiamo che la clinica specializzata di Chieti ha in cura 46 persone, quindi non è proprio una malattia così rara e noi non facciamo ricerca, ripeto, ma facciamo soltanto assistenza.